Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Bentornati nella nostra rubrica di bioetica. Molly è una bambina che è nata nel 2020, poco più di un mese fa. Dopo essere stata congelata come embrione nell'ottobre del 1992. Quindi di fatto Molly è nata dopo 27 anni dalla sua crioconservazione. Una coppia del Tennessee l'ha adottata tramite un centro, un'organizzazione, la National Embryo Donation Center, che appunto stocca, potremmo dire, embrioni crioconservati che le pazienti che hanno effettuato una fecondazione in vitro hanno deciso di non utilizzare. E quindi le famiglie accedono a questa struttura e adottano questi embrioni inutilizzati. Vediamo i problemi etici a partire appunto da questo grande problema di interesse per la bioetica che è appunto la crioconservazione degli embrioni. Diciamo che intanto che le tecniche di fecondazione extracorporea, quindi la FIVET o la ICSI, prevedono la possibilità di congelare gli embrioni nei primissimi stadi di divisione cellulare. Siamo nel 1983 quando viene data la notizia della prima gravidanza ottenuta proprio con un embrione, come si dice, scongelato. E questo embrione era stato sottoposto al congelamento quando appunto era allo stadio di otto cellule. Capiamo quindi che si ricorre al congelamento degli embrioni quando per il processo della fecondazione in vitro otteniamo un numero di embrioni in sovrannumero, cioè più di quelli che potremmo trasferire nella tuba. Questo lo facciamo perché ovviamente, come già abbiamo detto in altre puntate, quando si effettuano queste tecniche ovviamente la donna viene sottoposta a una serie di terapie che peraltro sono anche piuttosto rischiose per la sua salute. E quindi si cerca di produrre un certo numero di embrioni maggiore proprio per cercare di evitare di sottoporre più volte la donna a queste procedure. Gli embrioni vengono quindi conservati in azoto liquido in una temperatura di circa 196 gradi sotto lo zero e diciamo stanno in una condizione che viene chiamata criostabilità tanto che questo stato può durare anche molto tempo. Di fatto finché l'embrione non viene scongelato non sappiamo realmente in quali condizioni si trova e questo perché vengono sempre valutati due criteri. La vitalità dell'embrione e la sua viabilità. L'embrione si dice vitale quando è capace di sviluppare la divisione cellulare, la differenziazione e poi viene detto viabile quando ha la capacità di impiantarsi nell'utero della donna. E questo ovviamente è un criterio che viene valutato sulla base delle sue qualità morfologico. Noi abbiamo un dato però che è piuttosto chiaro, ovvero il fatto che ci può essere un embrione vitale non viabile ma non il contrario. quindi possiamo avere appunto un embrione vivo ma che non ha la capacità di impiantarsi e questa incapacità tra l'altro, questo è un dato che si conosce ed è chiaro da tempo, questa sua incapacità di impiantarsi può derivare da delle anomalie nel suo sviluppo che solitamente derivano proprio dalle tecniche di produzione usate. Se vogliamo parlare in termini di percentuali di sopravvivenza dell'embrione allo scongelamento, abbiamo appunto un'oscillazione che dipende anche un pochettino sia dallo stadio di vita in cui l'embrione è crioconservato, sia pensate anche dal modo con cui è stato ottenuto l'embrione, per esempio con o senza ICSI. Allora per quanto riguarda appunto diciamo la percentuale di sopravvivenza, questa oscilla da un massimo del 96% a un minimo del 50%. Diminuiscono invece le percentuali sia di successo dell'impianto sia poi di prosecuzione della gravidanza, perché c'è anche questo dato. Per quanto riguarda l'impianto, le percentuali variano da un 7,1% a un 25%, mentre invece le percentuali di gravidanza vanno dal 3% al 33%. Pensate che in Italia si stimano circa 84.356 embrioni in stato di crioconservazione. E' chiaro che il fenomeno del congelamento si è sviluppato a partire dalla sentenza numero 151 del 2009 che ha eliminato quel limite che era originariamente previsto dalla legge 40, ovvero quello di produrre solo gli embrioni utili a un trasferimento, cioè tutti quelli che si producevano tali e quali si impiantavano e quindi non si potevano produrre embrioni in sovrannumero. Venendo meno questo, chiaramente è aumentata la possibilità e l'effettività del congelamento. Ecco qui tra l'altro non ci occupiamo di un altro problema che già abbiamo visto sempre in questo diario, ovvero il fatto che bisogna pure tenere conto che il numero che abbiamo individuato in realtà non è neanche poi così preciso, perché teniamo conto, almeno in termini di perdita di embrioni, nel senso che bisogna tenere conto che prima di essere crioconservati gli embrioni in sovrannumero vengono selezionati in base allo sviluppo e alla morfologia. Quindi c'è una fase precedente la crioconservazione stessa che è appunto data dalla selezione. Quindi quando noi vediamo il numero degli embrioni crioconservati noi dobbiamo tenere presente che a quel numero lì vanno aggiunti altre vite che appunto sono state precedentemente considerate nemmeno degne della crioconservazione. Teniamo conto che tra l'altro la tecnica di crioconservazione si associa alla perdita di embrioni anche a seguito dei processi di raffreddamento perché può avvenire la frammentazione di alcuni blastomeri o addirittura una simmetria di sviluppo. Questi rischi diciamo si cerca di evitarli con l'uso di crioprotettori. Quindi diciamo appunto che c'è anche questo aspetto. Fatto sta che evidentemente la crioconservazione solleva numerosi interrogativi proprio legati alla gestione di questi embrioni che si trovano di fatto in uno stato di abbandono in veri e propri campi di congelamento come li chiamava Jérôme Lejeune. Allora, cosa si può fare? Ci sono varie ipotesi che vengono avanzate in merito al destino di questi embrioni. C'è chi propone di utilizzarli per la ricerca e per la sperimentazione. C'è la proposta di distruzione mediante scongelamento. C'è la cosiddetta adozione prenatale e poi appunto c'è il mantenimento della crioconservazione fino all'estinzione, fino alla morte naturale. Per quanto riguarda l'utilizzo a scopo di ricerca, quindi l'uso degli embrioni nella sperimentazione, dobbiamo dire che anche questo male, come spesso avviene, viene presentato con un fine di bene. Cioè si dice piuttosto che condannare questi embrioni alla morte certa, allora meglio utilizzarli a beneficio dell'umanità. Fatto sta che comunque questo utilizzo presuppone un uso distruttivo di embrioni vitali, perché fondamentalmente per utilizzarli una volta che non sono più vitali bisognerebbe provare lo stato di morte dell'embrione, cosa che è molto difficile da dimostrare. E' chiaro che in merito all'utilizzo degli embrioni nella sperimentazione entra in gioco la considerazione dello statuto dell'embrione, perché se l'embrione viene considerato quale è un essere umano a tutti gli effetti meritevole di dignità, evidentemente già la risposta fa parte appunto di questa considerazione, quindi non può che essere illecita questa via. L'altra proposta è quella della distruzione mediante congelamento, cioè sostanzialmente distruggere gli embrioni in stato di abbandono e quindi inadatti al trasferimento mediante scongelamento, in modo tale da anticipare la fine di un processo vitale e quindi però appunto, come dire, porre sostanzialmente le condizioni di una morte certa, provocata volontariamente. Questa è una via che solitamente viene scelta per liberare congelatori, assomiglia un po' alla via breve per liberare posti letto in ospedale, qui si liberano posti in congelatore, ma l'approccio appunto fondamentalmente è quello utilitarista. Anche qui non riteniamo possibile è percorribile una via di questo tipo. Diciamo che la questione un po' più spinosa è quella dell'adozione prenatale. Alcuni sostengono pur di salvare in qualche modo la vita di questi innocenti e quindi dare la possibilità a questi innocenti di venire alla luce ritengono ammissibile l'adozione prenatale. Allora, diciamo che intanto teniamo conto che ci sono tutta una serie di difficoltà pratiche anche nella sua propria realizzazione. Intanto la necessità di selezionare le coppie che rispondano a requisiti che appunto vanno comunque individuati per salvaguardare la logica.